Quest'anno avrebbe compiuto il suo trentesimo compleanno mentre la sua giovane vita è stata spezzata ad otto anni da una furia omicidia senza eguali. E il dramma che si rivive ogni anno il 19 agosto da ormai 22 anni. La notizia sconcertante arrivò a sera dopo molte ore di ricerche infruttuose. La piccola Graziella Manzi fu ritrovata morta in un bosco della Murgia a poca distanza dalla pineta di Castel del Monte. Un omicidio efferato che trovò nel branco formato da cinque elementi, gli esecutori materiali. In quattro sono attualmente in carcere, tutti individuati e arrestati con una condanna all'ergastolo per quattro di loro e a trent'anni per l'ormai tristemente famoso Pasquale Tortora, colui il quale secondo la ricostruzione ufficiale degli inquirenti avvicinò alla fontana di Castel del Monte e portò nel bosco la piccola Graziella. Uno di loro, Vincenzo Coratella, di 27 anni, si è tolto la vita nel 2008 nel carcere di Lecce dove era detenuto lasciando bigliettini e lettere nelle quali ha sempre professato la sua innocenza. Michele Zagaria, Domenico Margiotte e Giuseppe Di Bari continuano invece a scontare la loro pena nonostante le tre richieste già effettuate dai legali di revisione del processo. Sentenza definitiva già giunta in Cassazione nel 2004 a cui i giudici della Corte d'Appello di Lecce nel 2013 non hanno ritenuto aver acquisito nuovi elementi utili alla revisione del processo e della sentenza stessa. Una giornata quella del 19 agosto del 2000 che cambiò il volto di una comunità che in un istante si ritrovò distrutta e ferita come peggio non avrebbe potuto sentirsi.